Ciao! Ciao Alexa! Nome? India! Cognome? Giordano! Quanti anni hai? 21! Da quanto tempo canti? 6 o 7 anni! Che genere di musica ascolti? Blues, jazz! Che ruolo hai nella band? Cantante! Perché ti piace fare parte dei piano B? Perché ci sono io! Che brand preferisci della vostra scaletta? The best di Tina Farne! Quale brano vorresti suonare insieme in concerto? Time is running out the news! Chi è più divertente della band? Carmi! Chi è più serio della band? Mario! Progetti per il futuro? Andare a tempo su Mona Lisa! Ciao India! Ciao! Ciao!